Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Preghiamo lo Spirito Santo che veramente ci faccia vivere queste catechesi, specialmente, penso che questa sia l'ultima, no, è la penultima, è la penultima forse, dipende, dipende. Forse sarà l'ultima. Comunque, nell'attesa del Natale, allora veramente che lo Spirito Santo, già delle catechesi passate, è anche questa qua di stasera, nell'attesa della celebrazione caristica di ogni domenica. Proprio vivere questa attesa della bellezza che stiamo adesso ascoltando, ma poi gustando e celebrando domenica. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nostra Signora di Casandrino, prego. Buon cammino d'avvento. Domenica abbiamo iniziato questo nuovo anno liturgico, e questa stagione nuova di quest'anno liturgico. Personalmente, tra le varie stagioni del tempo liturgico, viviamo molto l'avvento. Proprio questa attesa, questa dimensione di tensione interiore, perché questo poi significa avvento, tendersi verso qualcosa o tendersi verso qualcuno. E chiaramente, vedete, se aspetti qualcuno, tu sei vivi nell'attesa di questo che deve venire. Ed è bello poterci chiedere se veramente noi stiamo aspettando questo qualcuno. E questo qualcuno che continuamente ci ha anticipato come incontro proprio nell'Equarestia. Però sappiamo anche che poi ci sarà questo incontro definitivo quando non ci saranno più i veli, e finalmente lo vedremo faccia a faccia. Però, sapete, bisogna desiderarlo questo. Io credo che l'avvento sia anche il tempo del desiderio, e dove si dovrebbe rinnovare, riaccendere dentro di noi il desiderio. Vedete, se non c'è desiderio non c'è nulla. Il desiderio è che poi metti in cammino, metti in moto, ti metti in movimento e ti fa fare poi tutto. Ti fa vivere anche nelle difficoltà il desiderio. Perché appunto quella realtà che tu desideri, e tu in quelle difficoltà, proprio in quella realtà così grande che desideri, poi passi anche quelle difficoltà. E oltre alle due tematiche, sapete, che presenta l'avvento, il fatto che ci prepara, ci fa ricordare la nascita storica, quindi di due mila anni fa, ci fa guardare al passato, però ci fa guardare anche il futuro. Perché allo stesso tempo, non lo dimentichiamo, che è la dimensione poi principe dell'avvento, il fatto che ci prepariamo a quando lui verrà alla fine dei tempi. E questa molte volte la mettiamo un poco da parte. Pensiamo sempre all'avvento, ci prepariamo al Natale. Sì, ma quale Natale? Di quando lui verrà. Quindi dobbiamo desiderare quando lui verrà. Domenico ho celebrato qui da voi, molti stavate ad Assisi, quindi... Alla Messa delle Dieci. Un bambino, parlavo proprio dell'avvento, così attendere, se attende una persona... Sai, io dissi, feci questo esempio, mettiamo che una persona, un amico tuo viene alle cinque, e tu che fai se ci tieni a questa persona? E l'aspetto, mi preparo. Se non ci tieni... E un bambino, Antonio, mi ricordo ancora il nome, mi disse lui... E io se, ad esempio, alle cinque lui viene, se sto colpiggiamo ancora addosso... Perché vuol dire, disse lui, che a me non mi interessa di quello che viene. Dice, viene, se è venuto, va bene, non sei venuto la stessa cosa. Perché lui diceva, il fatto che sto colpiggiamo, faccio significare, faccio capire che non è che l'aspettavo questa persona. Un'immagine bellissima. Perché, evidentemente, colpiggiamo significa che sto facendo delle cose mie. Quindi, non ti aspettavo. Cosa terribile potrebbe essere per noi, Signore, non ti aspettavo. L'imprevedibilità di Dio, che dobbiamo mettere in conto. Se il Signore ci dicesse, io alle dodici vengo, alle cinque vengo, così... Eh, noi ci avremo, no? Signore, quando accadranno queste cose? Nell'Evangelia, le ascoltiamo spesso queste cose, no? Il quando? Proprio quello di domenica scorsa. Se quando vuoi, sapendo il momento, cambierebbe qualcosa nella nostra vita, io penso che non cambierebbe niente. Però il fatto, ecco, di... Non sappiamo quando verrà, però sappiamo che verrà. E non verrà per giudicarci o per condannarci. Verrà per farci vivere la pienezza di quell'incontro che, ripeto, ci ricordava anche Don Ernesto, già anticipato nell'Equarestia. Bene, ritorniamo al nostro cammino. Allora, abbiamo visto che questa storia bellissima di rapporto e relazione con Dio e con l'uomo inizia con la creazione di un giardino. Dio prepara questo giardino, questo giardino così bello, il giardino di Eden, così come è chiamato, dove non manca nulla in questo giardino. E' in questo giardino che Dio pensa per l'uomo, costruisce lui stesso per l'uomo attraverso quella costruzione della siepe, di quella recensione, di quella protezione, a favore dell'uomo. Prende l'uomo, lo mette in questo giardino affinché l'uomo possa vivere tranquillamente e beato in questa situazione paradisiaca. Paravisiaca. In questo giardino si trova l'uomo e si trova Dio. Entrambi abbiamo visto l'uomo e uomo e Dio e Dio, con le prerogative dell'uno e dell'altro. E quindi c'è questa relazione, la pienezza di relazione. Però in questo giardino a un certo punto interviene la non-relazione, a causa di quel serpente che va lì ad attentare a questo equilibrio che c'è tra l'uomo e la donna. E in ultima analisi tra l'uomo poi e Dio, insinuando quel dubbio dove fa nascere che cosa all'interno della testa dell'uomo, della donna? Che Dio sia geloso. Che Dio non vuole condividere con la sua creatura certe prerogative, quindi gliele vuole nascondere. Ecco perché non vuole che toccate l'albero. Non morirete affatto, anzi diventerete come lui. Abbiamo visto che l'uomo cede alla tentazione, si aprono i suoi occhi attraverso questa immagine, si accorge di essere nudo e quindi capisce che ciò che avrebbe dovuto poi renderlo come Dio, alla fine lo allontana da Dio. Abbiamo visto però che in questo allontanarsi da Dio, l'uomo anche nel peccato non fa che rifugiarsi in Dio stesso. Attraverso l'immagine che si nasconde nell'albero che sta lì, il mezzo giardino, e quindi si nasconde in Dio. All'uomo che stende la mano contro l'albero, quindi attenta alla vite dell'albero, Dio deve fare una sola cosa. Nel momento in cui l'uomo decide di non vivere più questa relazione, Dio lascia cadere la siepe e quindi l'uomo si trova al di fuori del giardino senza più protezione. E siamo arrivati a questo punto qui, con quell'immagine appunto che abbiamo lì, di questo giardino. Adesso che siccome l'uomo si trova al di fuori del giardino, è incolto oramai il giardino, non c'è più nulla. Ora ci chiediamo, dov'è che l'uomo storicamente si trova al di fuori del giardino? Quindi nella realtà arelazionale, cioè la realtà senza relazione con il suo Dio. Questa esperienza dell'uomo al di fuori del giardino, noi la troviamo quando il popolo si trova schiavo in Egitto. La schiavitù d'Egitto segna concretamente e realmente il luogo al di fuori del giardino. Perché vi ricordate, in Egitto l'uomo israele, che cosa diventa? Diventa schiavo. Quindi deve lavorare come schiavo per il faraone. Mentre nel giardino doveva pure coltivare quel giardino, ma non da schiavo, da uomo libero, ha preferito l'uomo lavorare lo stesso, ma lavorare come schiavo. E quindi in questa realtà di schiavitù, quindi di non vivere una relazione, noi la troviamo al di fuori, ripeto, nella situazione proprio di Israele, quando si trova in Egitto. Leggiamo in Esodo 1, 13, 14. Gli egiziani fecero lavorare i figli di Israele trattandoli con durezza. Resero loro amare la vita mediante una dura schiavitù, costringendoli a preparare l'argilla e a fabbricare mattoni. E ad ogni sorta di lavoro nei campi, a tutti questi lavori, li obbligarono con durezza. E quindi è la situazione della non relazione. E quindi stiamo al di fuori del giardino e stiamo lì, storicamente ci collochiamo in Egitto, dove c'è la schiavitù per 400 anni, non lo dimentichiamo. Il Signore, per bocca del profeta Isaia, fa questo canto di dolore e di disperazione. Il Signore che parla per bocca del profeta Isaia. Sentite queste espressioni. Voglio cantare per il mio diletto. Il mio diletto possedeva una vigna, giardino, leggiamo noi, paradiso, sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e scombrata dai sassi, e l'aveva piantato, viti pregiate. In mezzo aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece acini acerbi. Egli aspettò che producesse uva, la relazione, no? Di tutti gli alberi puoi mangiare, tranne di quello. E quindi si aspettava che cosa? Che avesse seguito poi questa realtà di questo invito. Invece produsse acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici, fra me, Dio, e la mia vigna, Israele, il popolo, Adamo. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Detto qui, scelte vite, avevo scavato una torre, quindi un tino, e quindi l'acqua che poteva poi irrigare. Genesi 2, quello che abbiamo visto, il paradiso. Che cos'altro dovevo fare che non abbia fatto? E quante volte, no? Penso al grido di una mamma o di un papà, no? Che cos'altro dovevo fare per te? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe, il recinto, e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata. Vi cresceranno rovi e pruni, alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli Eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli aspettava giustizia ed ecco spaggimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Quindi in pratica la protezione è distrutta, lo spazio relazionale non c'è più, l'uomo e Dio vivono non più da una relazione amicale, paterna, padre e figlio, ma relazione proprio di inimicizia, che chiaramente pone l'uomo nei confronti di Dio con l'atto che ha fatto. Quella è la voce di Dio. Adesso l'uomo risponde a quella voce e dice l'uomo, Israele, il popolo, Adamo, noi. Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge, seduto sui carubini, risplendi davanti a Efra e Benamini e Manasse, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. O Dio, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Fa che ritorniamo dove? Nel giardino. E riammettici in quella comunione con te, facci ritornare in quella relazione che era alle origini. Signore, Dio eserciti, fino a quando fremerai disdegno contro le pigliere del tuo popolo? Tu ci nutri i compagni di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Pensate un po' che uno pure, tu ti affidi a Dio e poi ti è capitato questo. E questo è il tuo credere nel Signore. Dio degli eserciti, fa che ritorniamo. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Fa splendere il tuo volto. Vi ricordate come ce l'avamo lasciati? Che Adamo, che cosa fa? Non guarda in faccia a Dio. Allora dice, fa di nuovo splendere il tuo volto. È bello, l'ascolteremo il primo gennaio. Il Signore faccia splendere su di te il suo volto e ti dia pace. È bello, il primo gennaio, capodanno, come iniziamo noi l'anno nuovo con Dio che fa risplendere il suo volto su di noi. Hai sradicato, adesso li prende Isaia, hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. L'hai preparato il terreno e affondato le sue radici ed essa ha riempito la terra. La sua ombra copriva le montagne, i suoi rami, i cedri più alti. Hai sesso i suoi tralci fino al mare e arrivavano a fiume i suoi germogli. Perché hai aperto brecce, hai fatto cadere la siepe, nella sua cinta e nel faveandemia ogni passante? Allora, se io tengo il recinto, non entrano nel mio recinto, però se il recinto non c'è, chiunque può passare. Quindi, siccome il recinto era messo o distrutto, in quella realtà di relazione tutti possono passare e vanno a depredare le cose belle che c'erano in quella realtà. La devasti il cinghiale del bosco, ripascono le bestie della campagna, Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te è reso forte. Attenzione, perché questo è importante, proteggi quello che la tua destra ha piantato. Quindi è una cosa tua, proteggila, perché è una cosa tua, al di là di quello che noi abbiamo fatto. Quindi, in base a quella domanda, facci ritornare dove? Nello spazio relazionale. Quindi, signore, riportaci in quella relazione, perché solo lui ci può portare, non ci possiamo andare noi. Se abbiamo visto, lui all'inizio, lui costruisce il giardino e lui prende l'uomo e lo mette dentro, non è che l'uomo si mette piano piano, si va qua e poi entra nel giardino. È il signore che lo mette nel giardino che ha preparato per lui. Quindi, come l'ha messo allora, lui solo può far ritornare l'uomo nel giardino. L'abbiamo detto l'anno scorso, ricordatevi, non dipende dalle nostre idee, dai nostri buoni propositi, dalla nostra buona volontà. Dipende da lui. La tematica dell'Avvento, questo ci dice, che se lui dal cielo non scende, non viene verso di noi, noi non possiamo andare verso di lui. Se lui non si mette in cammino, noi non possiamo andare da nessuna parte. Quindi, facci ritornare nello spazio relazionale. Ma sarà sufficiente chi dire, signore facci ritornare per ritornare nel giardino? Basta dire, signore fammi ritornare, e automaticamente lui mi prende e mi riporta dentro. Chiaramente la domanda è una domanda di retorica, capite subito che non è sufficiente formulare questa richiesta a voce affinché si rialzi la siepe, si ripianti di nuovo il giardino e noi, come figli, siamo posti di nuovo in questo giardino. E quindi si rivive di nuovo questa relazione. Ora, attenzione, nella lettera agli ebrei c'è questa frase che dice così, una frase un po' particolare. Secondo la legge, e per legge dobbiamo intendere i primi cinque libri della saga scrittura, che per gli ebrei si chiama la legge. Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue e senza spargimento di sangue non esiste perdono. La lettera agli ebrei 9,22. Quindi, senza spargimento di sangue non esiste perdono. Quindi basta formulare qua la parola, Signore, e farci ritornare? No. C'è bisogno che il sangue sia sparso. Il sangue di chi? Certamente non il nostro. Perché siccome noi non abbiamo quella capacità, anche se noi spargiamo, aggettiamo il nostro sangue, non per questo siamo riammessi di nuovo. in quella relazione. E adesso vediamo questo riferimento del spargimento del sangue. Per gli ebrei, quando si stipula un'alleanza, loro usano questa espressione tagliare un'alleanza. Noi diciamo stipulare un patto. Facciamo un patto, lo stipuliamo. Loro invece usano così tagliare un patto. Un patto viene tagliato. E gli ebrei quando stipulavano un patto, tagliavano un'alleanza, avevano un rituale particolarissimo. In pratica che cosa facevano? Prendevano degli animali. E c'era pure qui indicati che animali bisognavano prendere. Venivano divisi, squartati, tagliati questi animali e si metteva metà da una parte e metà dall'altra parte. Poi i due contraenti passavano in mezzo agli animali squartati. Nel passare in mezzo agli animali squartati annunciavano delle clausole dei precatori. in pratica dicevano così io e te che ora facciamo questo patto, facciamo questa alleanza e camminavano succede a noi due o a uno dei due o a chi non manterrà fede al patto di fare la fine degli animali che abbiamo squartato. è un rituale un po' comagrebo. Però attenzione perché ciò che potrebbe sembrare negativo in un certo qual modo è qualcosa di positivo. Perché infatti è vero sì che gli animali morti quindi diranno una cosa negativa però il fatto sono un richiamo a me di osservare il patto perché se voglio avere vita devo essere fede per il patto che ho fatto. Mantenere ferma l'alleanza. E abbiamo la descrizione di questo patto. Genesi 15 9-18 dove entra in scena Adamo Abramo ora non c'è più Adamo e abbiamo Abramo e leggiamo questo adesso e disse a lui Dio prendi per me una giovenga di tre anni e una capra di tre anni e una torta e un pulcino d'uccello e prese per lui tutti quegli animali li divise in mezzo e pose ogni metà divisa di fronte all'altra ma gli uccelli non divise e discessero i rapaci sui cadaveri e Abramo li respinse i cadaveri sarebbero gli animali squartati e Abramo li respinse è bello qui perché discessero i rapaci sui cadaveri vuol dire che veramente questi animali sono stati squartati quindi c'è il sangue che fuoriesce e gli animali le carogne in cielo così scendono per andare lì appunto a mangiare questi animali che erano morti lì poi lì a terra erano là uccisi e quando il sole stava per andarsene un sonno profondo cadde su Abram ed ecco un terrore e una tenebra grande cadde su di lui allora il signore disse ad Abram sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni quello che succederà ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io la giudicherò io dice Dio non Mosè i giudizi a lui anche se avranno fatto del male ma è giudizio a Dio dopo dopo essi usciranno con grandi ricchezze quanto a te andrai in pace e pressiuti i padri sarai sepolto dopo una vecchia e felice alla quarta generazione torneranno qui perché l'iniquità degli amore non ha ancora raggiunto il colmo e quando il sole se ne fu andato e fu buio fitto ecco un forno fumante e una torcia di fuoco passò attraverso quelle parti spaccate in quel giorno Adonai tagliò con Abramo un'alleanza dicendo alla tua discendenza da questa terra dal fiume d'Egitto al grande fiume il fiume Eufrate quindi l'alleanza qui che Dio sta facendo con Abramo qual è? il dono della terra sta donando la terra per fare questo patto c'è bisogno di questi animali uccisi e bisogna passare in mezzo c'è qualcosa che non quadra in questo brano che abbiamo scordato secondo voi che cosa non quadra? che cosa manca affinché ci sia il patto? si concluda o si taglia il patto? è un momento però questo già stiamo dopo però Abramo mantiene il patto no 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 qui stiamo qui nella storia non la sappiamo quindi non andiamo oltre fermiamoci a questo brano qui che cosa qui manca abbiamo detto che affinché ci sia il patto i due contraenti devono prendere gli animali vengono divisi danno le clausole passano in mezzo e il patto è concluso che cosa manca secondo voi? chi non è passato? quindi chi passa? dove passa Dio? vedete che Dio dice passi in mezzo qui la torcia di fuoco indica la presenza di Dio che sta passando e attenzione che la cosa stupenda e meravigliosa è che chi passa è solo Dio quindi se io e te dobbiamo passare e se diciamo che chi dei due non osserve il patto di fare la fine degli animali Dio che cosa ha fatto qui ad Abramo gli ha fatto venire il tuo cuore e quindi si è addormentato solo lui passa in mezzo e Dio è come se dicesse succede a me la fine degli animali se io non osservo il patto nei tuoi confronti non lo lascia passare ad Abramo capite? è un'alleanza unilaterale è Dio stesso da solo che si impegna quindi se Abramo non dovesse rispettare Abramo non farà la fine degli animali uccisi perché non è passato in mezzo però Abramo potrà dire addio tu sei passato in mezzo quindi tu mantieni l'alleanza altrimenti fai quella fine lì senza spargimento di sangue non c'è redenzione ho detto prima quindi abbiamo componenti essenziali per stipulare il patto abbiamo detto messa a morte degli animali la spartizione la divisione e il passaggio in queste realtà abbiamo ancora un altro passo dove si fa riferimento allo spargimento di sangue l'abbiamo questa volta con Mosè dove però abbiamo un passaggio in più adesso con Mosè e mandò i giovani dei figli di Israele e fece salire olocausti e emolarono quali emolazioni di pace con Adonai dei Torelli e prese Mosè metà del sangue e lo mise in catini e metà del sangue lo sperse sull'altare e prese il libro dell'alleanza e lesse agli orecchi del popolo e dissero tutto quello che disse Adonai lo faremo e lo ascolteremo dice il popolo e Mosè prese il sangue e lo sparse sul popolo e disse ecco il sangue dell'alleanza che Adonai ha tagliato con voi sulla base di queste parole quindi tagliato con voi quindi capiamo che si sta facendo un'alleanza adesso l'alleanza qui come è fatta sono stati presi questi Torelli qui sempre dal sangue quindi ucciso il segno di comunione tra Adonai tra Dio e il popolo è l'aspressione del sangue Dio è asperso nel segno dell'altare e l'altro viene messo nei catini ad indicare il popolo quindi il popolo e Dio entrano in comunione attraverso l'aspressione di questo sangue però mentre è stata fatta l'alleanza adesso al popolo è chiesto una cosa tutto quello che disse Adonai dice il popolo noi lo faremo e lo ascolteremo quindi al popolo adesso cosa è chiesto di ascoltare e fare ciò che ha detto Dio mentre con Abramo sta fuori invece adesso al popolo nel rinnovarsi di questa alleanza qui al Monte Sinai viene chiesto come controparte di ascoltare e fare ciò che ha detto il Signore se qualcuno ha partecipato alla messa di oggi si ricorda che nel Vangelo c'era questa scena qui Gesù dice non chi dice Signore e Signore interrà nel regno dei cieli ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli quindi l'essere credente l'essere cristiano non è semplicemente ascoltare ancora di più non è parlare il cristiano è colui che fa fa quella parola che ha ascoltato quindi fin quando faremo ascolteremo e faremo ci troviamo nella realtà di questo patto quindi per stipulare tagliare stare al linguaggio biblico l'alleanza è necessario il sangue non dei contraenti naturalmente ma degli animali che necessariamente devono essere messi a morte due sono i contraenti e il sangue viene diviso in due porzioni distinte uno l'altare che indica Dio e l'altro negatini che poi è per il popolo il sangue attenzione perché in Israele è segno di vita condividere lo stesso sangue e condividere la stessa vita quindi quel sangue l'altare e il popolo condividono appunto la stessa vita attraverso l'aspressione del sangue del medesimo sangue si è destinati e vincolati ad una stessa esistenza relazionale che dal momento in cui si vuole contratto diventa una realtà nuova adesso andiamo in una parte bellissima e si avvicina molto poi al nostro tema tutto questo chiaramente fa parte del nostro tema però adesso andiamo in una realtà affascinante se la completiamo finiamo con gli incontri per quest'anno e poi piacendo al Signore l'anno prossimo vedete noi se io vi chiedessi dell'Antico Testamento qual è secondo voi la realtà il fatto l'evento più importante dell'Antico Testamento secondo voi l'uscita dall'Egitto è l'ingresso nella terra promessa benissimo l'evento centrale di tutto l'Antico Testamento è appunto l'uscita dall'Egitto che segna la fine della schiavitù e il passaggio del Mar Rosso questo è l'evento centrale fondamentale di tutto l'Antico Testamento e del Nuovo Testamento qual è secondo voi la Pasqua la passione morte e risurrezione di Gesù attenzione perché vedete qui Israele e Mosè radunne il popolo dove dà le indicazioni che poi attraverso il mare passavano il passaggio del Mar Rosso indica e segna l'effettiva liberazione del popolo dalla schiavitù quindi il popolo Israele sarà effettivamente libero dalla schiavitù quando passerà il Mar Rosso ed inizierà il suo cammino nella terra promessa perché ecco Dio ha detto ad Abramo io scenderò a liberare il popolo che sarà schiavo per 400 anni e quella nazione la giudicherò io quindi c'è questa realtà qui di questo passaggio quindi l'effettiva liberazione sarà attraverso il passaggio del Mar Rosso ora però facciamo attenzione a una cosa che il passaggio del Mar Rosso non è una cosa come possiamo pensare noi una cosa immediata Dio scende e il popolo passa e il popolo passa poi attraverso c'è tutto un itinerario dietro affinché avvenga questo passaggio del Mar Rosso ma è tutto Dio si ricorda della sua alleanza il Signore disse ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a caso dei suoi sorveglianti conosco le sue sofferenze sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa verso una terra dove scorre latte e miele verso il luogo dove si trova nel canale sono sceso per liberarlo e per farlo salire dove? per un'immagine che noi conosciamo dove? per riammetterlo dove? nel paradiso di nuovo nel giardino quindi ho osservato la miseria ho udito il suo grido sono sceso per liberarlo perché? perché il popolo è schiavo perché il popolo fa pietà a Dio perché Dio sciente per liberarlo perché ha promesso perché altrimenti che fine farebbe? e la farà quella fine lo sappiamo l'ultima scena in Egitto è il passaggio del Mar Rosso sono i due momenti attorno ai quali ruota l'effettiva liberazione del popolo ora ci facciamo una serie di domande e ci chiediamo quest'ultima scena fatta alla vigilia del passaggio del Mar Rosso c'è un riferimento tra questi due eventi o sono due cose distinte e separate? è semplicemente una scena che facevano come tutte le sere che si cena e poi si fanno le altre attività è una scena che è legata necessariamente a questo fatto del passaggio del Mar Rosso questo lo sappiamo noi però loro non lo sapevano ma questo lo sappiamo noi non loro chiaramente la risposta la sappiamo quando si fanno le domande sono domande retoriche non lo sapete chiaramente l'ultima cena è legata necessariamente al passaggio del Mar Rosso non si capisce il passaggio del Mar Rosso senza l'ultima cena non ci sarebbe l'ultima cena senza il passaggio del Mar Rosso attenzione perché noi stiamo già parlando per quello che diciamo dovete intravedere la celebrazione nostra dietro dovete vedere la Pasqua se abbiamo detto che i due eventi centrali sono per l'Antico Testamento questo e il Nuo Testamento poi quell'altro vediamo le indicazioni che vengono date dal Signore a Mosè e che Mosè darà al popolo lasciamo stare le dieci piaghe chiaramente non ne entriamo perché non riguardano per quello il percorso che stiamo facendo il Signore disse a Mosè ad Aronne in terra d'Egitto quindi Dio ha detto sono sceso per liberarlo ho detto quindi sceglie Mosè chiama Mosè e adesso parla a Mosè e dice stiamo in Egitto allora quindi stiamo ancora in schiavitù questo mese nel momento in cui sta parlando sarà per voi il principio dei mesi sarà per voi il primo mese dell'anno quindi Dio sta mettendo Mosè e il popolo il nuovo inizio quindi inizia qualcosa di nuovo per il popolo tutte le volte che Dio interviene inizia sempre qualcosa di nuovo noi questo lo sperimentiamo in modo particolare nella riconciliazione nella confessione quando noi ci confessiamo dalla confessione non usciamo nuovi è il primo giorno stare per dire è il primo giorno battesimale con la grazia che ci viene data questo mese sarà per voi il principio dei mesi sarà per voi il primo mese dell'anno parlate a tutta la comunità di Israele e dite il 10 di questo mese del primo mese dell'anno quindi giorno 10 del primo mese dell'anno si prendano ognuno un capo di bestiame minuto per casa paterna un capo di bestiame minuto per casa quindi ogni casa deve rendersi un capo di bestiame minuto ogni casa poi sarà prescritto che ogni casa devono essere almeno 10 persone affinché poi ci sia la realtà di una famiglia per poter poi celebrare questa realtà se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello e se la casa è poco numerosa per un capo di bestiame minuto si unirà lo prenderà al vicino il più prossimo alla sua casa secondo il numero delle persone pure è bello questo questo è bello vedete cioè non è semplicemente una famiglia individuale per i fatti suoi c'è già un segno di comunione in tutto questo e vedete fateci caso quando è brutto quando noi ce l'hanno insegnato questo è vero facciamo la comunione e mi ricordo da bambino poi mi raccomando torni a posto metti le mani giunte prega Gesù chiudi gli occhi perché Gesù sta nel tuo cuore noi abbiamo detto che i segni sono importanti secondo voi questo cosa significa che torna a posto mio così io e lui chi sta attorno a me può anche morire e noi questo abbiamo trasmesso abbiamo insegnato e continuiamo a trasmettere e insegnare che succede alla comunione Gesù viene nel mio cuore che bello sto io e lui abbiamo detto non è per questo ne facciamo la comunione non per questo celebriamo l'equarestia stiamo vedendo se la casa fosse troppo piccola e il numero della famiglia deve associarsi agli altri perché non puoi celebrare la Pasqua da solo non puoi celebrare la Messa da solo non puoi fare la comunione da solo sei egoista si unirà al vicino al prossimo della sua casa secondo quanto ognuno potrà mangiare calcolate il capo di bestiame minuto pure bella indicazione secondo quanto ognuno potrà mangiare non si deve sbafare quanto ognuno ne potrà mangiare il capo di bestiame minuto sia senza difetto maschio di un anno lo prenderete tra gli agnelli o tra i capretti e sarà poi in custodia fino al quattordici di questo mese quindi il dieci prendono il capo di bestiame minuto ce l'hanno per quattro giorni e al quattordici del mese quindi dopo quattro giorni sempre di quel primo mese dell'anno tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto tra le due sere quindi è una celebrazione è una cena quindi avviene di sera e quindi questo rito di questo agnello che deve essere rimolato si fa di sera attenzione prenderanno del sangue di questo animale che è stato sgozzato lo metteranno sui destipiti e sull'architrave della porta quindi gli stipiti e sull'architrave della porta sulla casa nelle quali lo mangeranno qui nella casa dove si mangerà quell'agnello si doveva prima sgozzare quell'agnello poi dal sangue si mette vicino ai due stipiti della porta e quindi la casa attraverso la porta è segnata da sangue dell'agnello in quella notte quella del quattordici ne mangeranno la carne arrostita al fuoco la mangeranno con azimi e con erbi amare non la mangerete crudo né bollito nell'acqua ma solo arrostita al fuoco con la testa le zampe e le visce sono le indicazioni rituali che noi poi questa abbiamo nel libro poi del levitico non ne dovete far avanzare fino al mattino quello che al mattino sarà avanzato lo buserete nel fuoco ecco in qual modo lo mangerete con i fianchi cinti sandali e piedi e il bastone in mano lo mangerete in fretta e la Pasqua del Signore attenzione a questa indicazione fianchi cinti sandali e piedi e il bastone in mano noi quando arriviamo a casa abbiamo cose che facciamo ci mettiamo generalmente il pigiama per stare comodi come diciamo ci togliamo le scappe e mettiamo le pantofole stiamo comodi togliamo il bastone perché per la strada camminiamo col bastone quindi per appoggiarci però a casa non abbiamo più bisogno invece in casa per la cena questo non lo devono fare la comunità la famiglia non deve mettersi in disabillé deve stare pronta perché deve scappare se ne deve andare lo mangerete in fretta è la Pasqua del Signore non è la nostra Pasqua è Lui che fa Pasqua la Domenica è il giorno del Signore abbiamo visto quando i martiri di Abiliano ricordate? non è la nostra Domenica non si lavora e noi facciamo festa è il suo giorno poi diventerà anche il nostro giorno ma prima è il suo giorno quindi è la Pasqua del Signore in questa notte io attraverserò la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto dall'uomo fino all'animale così farò giustizia ai tutti gli dei dell'Egitto io e il Signore non abbiamo visto le piaghe però vi ricordate l'ultima piaga qual è? la morte dei primogeniti perché la morte dei primogeniti? perché il Signore decide di colpire attraverso questa immagine? no siamo ancora all'Antico Testamento non siamo al Nuo Testamento perché il Faraone l'Egitto che cosa ha fatto? chi ha ridotto la schiavitù? il primogenito di chi? Israele è il primogenito di Dio quindi capite? il Faraone ha ridotto in schiavitù il primogenito di Dio che è Israele e Dio ridurrà in schiavitù il primogenito d'Egitto i primogeniti di quelli che hanno ridotto perché detto prima con Abramo con Adamo io farò giustizia da intendersi poi non ci entriamo dentro perché altrimenti dovremmo fare un corso biblico su questo ma non è la mia materia non sono conveniente su questo attenzione questi due versetti che sono i versetti fondamentali il sangue sull'architrave e sugli stipidi della porta sarà per voi quale segno sulle case nelle quali voi sarete io vedrò il sangue e salterò sopra di voi secondo qualche autore Pasqua significa saltare sopra secondo qualche autore quindi io dice Dio vedrò il sangue e salterò al di sopra di voi e non vi sarà conto di voi il flagello di sterminatore quando colpirò la terra d'Egitto quindi in pratica Dio sta dicendo questo io quella notte scenderò in Egitto come scende nel giardino a passeggiare quindi scendo vado vicino alle case vedo questa casa è del sangue va bene quindi allora io salto e risparmio questa casa questa casa non è sangue apro entro con l'angelo sterminatore e farò distruzione di dei che sono in quella casa andrò oltre c'è una casa segnata passerò oltre quindi voi capite che il sangue che sta là fuori diventa che cosa diventa un segno cioè Dio capisce attraverso il sangue chi c'è in quella casa ah ci sono i miei vado oltre quindi il sangue è un segno come il sangue che è stato diviso prima sangue è segno che dal lato dice appartenenza perché mi appartiene è dicendo allo stesso tempo che devo saltare e andare oltre e quindi in quella casa segnata dal sangue non c'è flaggello di sterminio vi prego fate già passaggio per il nuovo testamento di un sangue di un agnello che sarà sgozzato e che segnerà altre case non materiali ma altre case di quel sangue per cui l'angelo sterminatore quando dovrà colpire si fermerà vicino a quella casa segnata da quel sangue questo giorno sarà per voi quale memoriale e lo festeggerete lo celebrerete come festa per il Signore per tutte le vostre generazioni come statuto eterno lo festeggerete quindi lì abbiamo questa situazione il versetto 13 il sangue sarà per voi quale segno sulle case nelle quali voi sarete io vedo il sangue strato di sopra e non vi sarà conto del flaggello di sterminatore quando colperò la terra di Egitto perché è importante questo versetto stiamo ancora in Egitto abbiamo detto il popolo mangia quest'agnello con gli azimi e le erbe amare fa questo segno attorno alla casa l'angelo sterminatore passerà e salverà la vita di chi sta dentro i primogeniti saranno uccisi dall'angelo sterminatore a questo punto mentre il popolo sta mangiando e sta facendo celebrando la Pasqua del Signore il popolo è ancora sotto la schiavitù o è libero? il popolo è libero è ancora sotto la schiavitù è ancora sotto la schiavitù è infattato un momento però però nel momento in cui ha già detto che lui farà flaggello non contro il popolo quindi il popolo è libero già è libero quindi il popolo stando in Egitto facendo questo anche se fisicamente ancora qui ma già non appartiene più al faraone il faraone su di lui già non ha più nessun potere il popolo anche se fisicamente in Egitto già è entrato nella terra promessa già è stato riammesso nella relazione anche se fisicamente ancora lì in forza di questo se non fa questo l'angelo sterminatore entrerà e distruggerà quindi sarà ancora schiavo dell'Egitto ripeto fisicamente è qui ma veramente e realmente è già libero questo passaggio è importante se non cogliamo questo passaggio noi delle guare stia non abbiamo capito niente quindi attraverso queste indicazioni che il Signore dà il popolo nel celebrare la Pasqua del Signore anche se si trova qui fisicamente già è passato attraverso il Mar Russo anche se fisicamente sta qui il giorno dopo fisicamente passerà il Mar Russo ma quella libertà già la sta vivendo quindi Quindi, il segno che viene dato alla vigilia diventa una prefigurazione di quello che avverrà, è un segno profetico in pratica, è una profezia. In quel sangue, che è il segno, è prefigurato ciò che avverrà il giorno dopo fisicamente. Quindi, è il segno che è dato alla vigilia del passaggio del Mar Rosso, che segnerà la liberazione fisica. Però, questa realtà è anticipata nel segno. Io gioco la schedina, faccio 13, c'è ancora il 13. No, gioco l'enalotto, faccio i cinque numeri, vinco. Il premio lo devo ancora ritirare, però ho vinto. Quindi ho la certezza che quei soldi me li daranno. Quando? Non lo so, ma me li daranno. Quindi, che inizio a fare? Io posso già iniziare a fare il mutuo, posso iniziare a ipotecare qualcosa, a fare dei progetti, perché quei soldi comunque sono miei. Capite? Anche se fisicamente mi saranno dati a 40 giorni, io però in questi 40 giorni, io già li posseggo quei soldi. Qui già posso investire. Perché ho la certezza che a 40 giorni i soldi mi arriveranno. Anche se in mano non li tengo ancora, però li posso già spendere. Li posso impegnare. Quindi è un segno, quella vincita, è un segno di quello che tra 40 giorni fisicamente avrò tra le mani. È un segno, il sangue di quell'agnello che mi è dato la vigilia, di quello che fisicamente avrò il giorno dopo. Ma veramente, realmente, però i soldi già li tengo adesso. Posso già impegnarli questi soldi, posso già progettare. Quindi veramente, realmente, Israele è già libero qui. Il faraone può dire, sì, sì, fa quello che vuoi, oramai non ti devo più niente. La dura schiavitù è finita, perché lo sterminatore è passato. Quindi, segno profetico, dato la vigilia. Il sangue sarà per voi in funzione di segno. Il segno, non lo dimentichiamo, l'abbiamo detto l'anno scorso, se vi ricordate, il segno indica un rimando, un riferimento. Non è la realtà. Il segno mi dice qualcosa che andare al di là, andare oltre. Io, da destra, per venire qui, quando esco dall'asse mediano, poi mi trovo l'indicazione, Casandrino con la freccia a sinistra, a destra. Il cartello è un segno, non è Casandrino. Anche se è scritto Casandrino, ma non è il cartello Casandrino. Però mi dice, per andare a Casandrino devo andare di qua. Quindi il segno mi rimanda alla realtà che devo poi acquistare. Che di dire a Casandrino devo girare poi di qua, a destra. Quindi il sangue sarebbe voi in funzione di segno. Questo sangue mi rimanda a qualcosa. Indica appartenenza, indica protezione e indica alleanza. Il sangue, vi ricordate, noi abbiamo detto l'anno scorso che senza segni non possiamo vivere. Noi in termini di relazione, in comune, attraverso i segni. C'è di più, però. Perché, vedete, qui non c'è più Mosè. Questo è un rabbino che sta celebrando la Pasqua rituale. Perché ha detto nel versetto 14, questo giorno, dove stiamo ancora qui in terra d'Egitto, questo giorno sarà per voi quale memoriale. E questo giorno lo festeggerete e celebrerete come festa per il Signore. Per tutte le vostre generazioni come Statuto Eterno lo festeggerete. Quindi, in pratica, il Signore che cosa ha previsto? E poi capiremo perché ha previsto pure questo. Che quella celebrazione, quale l'ultima cena, data la vigilia dell'evento fondatore Passaggio di Mar Rosso, non esaurisce la sua funzione solo in quella vigilia. Ma quella celebrazione dell'ultima cena, della vigilia, deve essere una celebrazione che deve essere celebrata come una festa perenne, e di generazione in generazione, come festa per il Signore. Come uno Statuto Eterno lo festeggerete. Perché in pratica che succede? E che è successo? Che è vero, sì, che Israele mangia effettivamente già libero, anche se fisicamente si trova qui. E che il giorno dopo fisicamente passerà ed entrerà nella terra promessa. Però quando Israele arriverà nella terra promessa, che succede? Che Israele sarà santo nella terra promessa. o continuerà ancora a peccare. Continuerà ancora a peccare. Vi ricordate? Basterà subito dopo, se noi leggessimo adesso la saga scrittura, capitolo 15 dell'Esodo, subito inizia a dire fossimo morti in Egitto, dove lì qualcosa da mangiare la tenevamo. Quindi in pratica Israele, passato il Mar Rosso, entrerà nella terra promessa, rimpiangerà l'Egitto. E sapete cosa farà? Ritornerà in Egitto, non fisicamente, ma col pensiero. Quindi ritornerà di nuovo a stendere la mano verso l'albero e di nuovo a non vivere la relazione. E la domanda che ci facciamo è questa. Una volta che Israele ha passato il Mar Rosso e sta di qua, e poi continua a peccare, e quindi con la testa va ancora di qua, e quindi si ritrova di nuovo nella schiavitù d'Egitto, non fisicamente, ma veramente e realmente, perché poi ha peccato. È possibile di nuovo che si apri il Mar Rosso, fanno di nuovo l'ultima cena e passano un'altra volta per avere efficacia salvifica? No. Sapete perché? Perché il Mar Rosso non si può aprire più. Perché quello è evento unico e irripetibile. L'ultima cena data in Egitto non si può più ripetere, perché è evento unico e irripetibile. Però il Signore ha detto nel versetto 14, lo festeggerete come un memoriale per sempre. Quindi in pratica che cosa ha dato? Ha dato di poter riprendere il segno che ha dato la vigilia, riprendendo quel segno, si può di nuovo attingere all'efficacia e salvifica del passaggio del Mar Rosso. In pratica, la vigilia si fa l'agnello, si prende sangue così con tutto quel rituale. Lo mangiamo, stiamo ancora qui fisicamente, però già abbiamo passato il Mar Rosso. Il giorno dopo finalmente passeremo il Mar Rosso e quando ci troveremo nello stato di qua e torneremo di nuovo a piangere all'Egitto, a ritornare in Egitto, anche se ritorneremo di qua, non fisicamente, però veramente saremo di nuovo schiavi, saremo ancora una volta sotto il peccato, riprendendo questo segno, quindi celebrando la Pasqua annuale, celebrando, io finalmente passerò di nuovo in Mar Rosso e quindi sarò di nuovo di là. Nel segno, non nella verità, ma nel segno, che è vero però, non nella realtà fisica, ma nel segno. Se sono stato chiaro su questo, avete capito tutto. Se sono stato chiaro su questo, avete capito tutto. Allora, noi abbiamo questo, il passaggio del Mar Rosso, che è l'evento centrale, l'evento fondamentale. Il mare si apre una sola volta, si apre e si chiude, e non si apre più. Sarebbe più corretto dire, non si chiude più. Questo è bellissimo, perché non si chiude più il mare, perché con il battesimo, quando noi siamo stati immersi nella vasca del battesimo, vedete, vi ricordate, lo dissi l'anno scorso, il guaio nostro è che noi facciamo il battesimo, poche gocce sulla destra del bambino. Pensate invece a un battesimo, che il bambino viene immerso nell'acqua, l'acqua si apre, perché il meglio di fare con il bambino, così no, è proprio il passaggio del mare, che indica proprio questo passaggio dalla schiavitù alla libertà, alla vita nuova dei figli di Dio. Quindi il mare è poi aperto. Finisco, finisco. Allora, è un evento unico e ripetibile. Questo evento unico e ripetibile è preparato da quest'ultima cena in Egitto, e immediatamente fa riferimento al passaggio del Mar Russo. È proprio immediato al passaggio del Mar Russo. Quindi, prendendo questo pane, l'agnello, gli alzimi, le erbe amare, con i sangue sulla casa, così, Israele, anche se fisicamente si trova in Egitto, però già sta passando attraverso il mare. Inoltre, col versetto 14, si dice che l'efficacia che qui noi abbiamo, che fa riferimento in Egitto qui, anche un riferimento al futuro lontano, alle generazioni successive. Quindi tutte le generazioni potranno passare attraverso il mare grazie a questi segni. Infatti, se vedete un poco, se l'ho fatta apposta, ci sto facendo caso adesso, non ci ho mai fatto caso, c'è qui, questo segno qui che sta spezzando, lo stesso segno qui che sta spezzando. Ci sono qui delle coppe, e qui stanno le coppe dei calci, perché il vino che viene poi, le quattro coppe di vino di cui la cena poi è ebraica. Quindi, l'Israele delle generazioni, l'Israele futuro, Israele di oggi, facendo questi segni, che sono gli stessi segni fatti qua, grazie a questi segni, Israele si ritrova qui e si ritrova qui. Grazie ai segni. Quindi abbiamo l'ultima cena in Egitto, che è segno profetico ed è irripetibile. Abbiamo il passaggio del Mar Rosso, evento fondatore ed è irripetibile. E abbiamo la celebrazione della Pasqua ebraica, che è un rito ripetibile. Quindi, si ripete, non si ripete, non si ripete. Però, facendo questo rito, il rito gesti, segni, che abbiamo visto l'anno scorso, prendendo questi gesti, che sono gli stessi, questi gesti segni qua, noi facciamo tutto quello che è stato fatto loro, non noi. Loro fanno tutto ciò che è stato fatto qui. Quindi, quell'ultima cena che le rimanda esistenzialmente al passaggio del Mar Rosso. Oggi, quando gli ebrei celebrano il bambino più piccolo, al padre deve fare questa domanda quando celebrano la Pasqua. Padre, perché è diversa questa notte da tutte le altre notti? E il padre risponde. In ogni generazione e generazione, ognuno di noi è obbligato a vedere se stesso come essendo proprio lui uscito dall'Egitto. Quindi, il padre, quando adesso celebra la Pasqua, il figlio gli fa questa domanda che è una domanda rituale che gli viene fatta ogni anno. Il padre risponde così. In ogni generazione e generazione, ognuno di noi che adesso stiamo qui nel 2015 è obbligato a vedere se stesso come essendo proprio lui uscito dall'Egitto. Siccome è detto gli annuncerai a tuo figlio in quel giorno dicendo è a causa di questo che il Signore fece a me quello che fece quando uscì dall'Egitto. Non i nostri padri soltanto redense il Santo benedetto gli sia ma anche noi redense con essi siccome è detto e noi fece uscire di là per farci venire e dare a noi la terra che aveva giurato i nostri padri. Quindi, non solo i nostri padri quelli che stavano lì ma anche noi redense con essi quindi redenti loro noi siamo stati redenti con essi da vederci lì. ora ci facciamo quest'ultima domanda così allora la celebrazione pasquale loro è una ripresentazione o una rappresentazione? Cioè in pratica se abbiamo detto che quello è evento unico e ripetibile quindi là non si muove quando gli ebrei celebrano rappresentano quello che è fatto o vengono ripresentati a ciò che è stato fatto? Vengono ripresentati quindi in pratica quando Israele celebra nel 2015 nei segni Israele viene preso quella famiglia quella casa quella gente viene presa e viene ripresentata nell'ultima cena lì in Egitto passa il Mar Russo ed entra nella terra promessa entra di nuovo nel giardino tutto questo tale e quale pari 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 toglietelo di lì mistero pasquale l'ultima cena Gesù Cristo passaggio morte risurrezione ascensione celebrazione nostre eguaristiche quindi e chiudo quando noi celebriamo noi non stiamo in parrocchia qui a Casandrino quando vengono ripresi quei segni che Gesù fate questo in memoria di me l'ordine di interazione nel momento in cui vengono questi quei segni noi siamo ripresentati all'evento unico e ripetibile siamo riportati nel cenacolo dal cenacolo andiamo anche noi sul calvario arriviamo alla tomba vuota e rientriamo nel paradiso questo l'applauso lo va al signore che ha pensato questo per noi io finirei qui per non iniziare al prossimo incontro perché poi ci sarebbero le vacanze di Natale e poi resteremo un poco di tempo sospesi e quindi fermerei così perché al prossimo incontro poi a gennaio riprendiamo questa qui però togliendo Israele e ci mettiamo noi e quindi mettiamo la nostra celebrazione per poi iniziare proprio prendendo in mano la preghiera eguaristica quella che poi di domenica in domenica ascoltiamo durante le celebrazioni se c'è qualche domanda come sempre grazie grazie non si rinnova il sacrificio come anche i protestanti Cristo è morto una volta per sempre come quel mare una volta per sempre che si è aperto quindi Cristo non muore più anche perché immaginatevi i nostri latari sempre sporchi di sangue il sangue che scende lì sulla lataria no, Cristo è morto una sola volta per i peccati di tutta l'umanità anche i peccati che faremo tra dieci anni è morto già per quei peccati lì quindi quando noi celebriamo siamo resi presenti a quell'unico sacrificio che Cristo ha offerto esatto, sì vieni, sì sì sarebbe molto bello così non direttamente proprio a questo poi se Don Ernesto al limite lo credo opportuno poter fare un incontro anche in previsione del giubileo che inizieremo la settimana prossima se il martedì prossimo inizieremo nel grande giubileo della misericordia poter fare un incontro sotto forma così di riflessione anche di quasi direi una sorta di mini ritiro sulla misericordia proprio per poter cogliere proprio questa realtà questo aspetto anche dal cammino che stiamo facendo per cogliere che poi alla fine questa misericordia è proprio lì proprio in questa equarestia come ricordate il Vangelo di ieri Gesù che sente compassione e quindi sfama con il pane è bello, l'equarestia è il segno della misericordia proprio del Signore verso di noi di questa compassione che poi arriva abbiamo da riflettere quindi adesso io vi chiedo questo veramente siamo entrati, stiamo lì domenica partecipando alla celebrazione o nei giorni feriali così provate a immaginare veramente come il viaggio teologico che noi faremo da domenica dobbiamo avere gli occhi teologici il cuore teologico i nostri passi devono camminare nella storia ma c'è il fatto che nel momento in cui vado a posto così mi guardo con i fratelli che stanno intorno a me perché se è vero in quel momento è ciò che abbiamo detto quindi sono riammesso in quel paradiso i paradisi sono sempre insieme ad Eva e Eva non indica solo la mia compagna Eva indica l'umanità il fatto di poter guardare di stare al mio fianco vedete in quel momento quel momento in cui si costruisce la chiesa la chiesa non la si costruisce con i programmi pastorali la chiesa neanche con questi incontri che noi stiamo facendo questi sono un aiuto possono essere la chiesa si costruisce nel momento in cui noi facciamo la comunione se la chiesa è il corpo di Cristo noi dobbiamo sempre dircelo a noi stessi io mangio quel Gesù, lui mangia quel Gesù, lui mangia quel Gesù è lo stesso Gesù che stiamo mangiando quindi noi condividiamo entriamo nello stesso Cristo e qui ricordatevi l'immagine del corpo che è a San Paolo ma lui stesso vi ricordate Gesù lo dice passerà lui stesso a servirci beati quei sevvi che il padrone assolutamente avverrà così si cingerà le vesti e passerà a servirle guardate sarebbe interessante poter fare un lavoro di ricerca sui Vangeli tutte le volte che Gesù parla del pranzo parla della cena c'è tutta la questione poi problematica che è successa col tempo dove la lingua a un certo punto non si capiva più e la liturgia ha un percorso particolare dove viene relegata come a un compito dei solo sacerdoti del clero allontanandosi poi dalla partecipazione da parte poi dei fedeli e quindi a un certo punto anche con la famosissima celebrazione con le spalle al popolo il sacerdote Gesù e il popolo quindi Gesù rivolga al popolo come? tramite sacerdote allora la gente non era più partecipe di questa realtà era più spettatore di quello che avveniva invece stiamo vedendo che non può essere spettatore il popolo il popolo è coinvolto perché effettivamente in questo cammino tranne che noi la consideriamo una cosa automatica l'equarestia non è il sacerdote si salabim e viene Gesù sull'altare abbiamo detto prima no se non c'è il desiderio sì Gesù scende sull'altare però se non c'è il desiderio io farò anche la comunione però mancherà da parte mia quella partecipazione quella adesione a questa realtà può sempre capitare il fatto così sì io posso pure mangiare poi quando c'è il desiderio si fa più male che bene forse io sono convinto una cosa per tanti secoli così il Signore è intervenuto lo stesso anche per altre vie così in base al tempo che si viveva il Signore comunque fatto capire quello che il Signore fa capire pensate no c'è ancora forse un po' pure da noi la gente si diceva il rosario durante la messa e meno male perché giustamente non capendo niente quindi occupavano il tempo facendosi le devozioni poi suonare i campanelli e almeno questo momento è importante che poi vedremo in un momento importante non è quello di indini sono i campanelli perché ritorniamo ancora poi in una cosa ah Gesù mostrerà sulla terra è perché finiamo Gesù dove sta se è vero che diciamo che nella parola parla Cristo nell'assemblea c'è Cristo Gesù muoviene sulla terra e finiamo che cosa abbiamo fatto le brazzellette questo l'abbiamo già detto quella domanda provocata da il nome provocati da Franco su queste vi ricordate poi da qui poi portai quella frase dei martiri di Abitene è successo così perché poi a un certo punto l'abbiamo l'abbiamo ognuno poi si pia la sua responsabilità l'abbiamo troppo sminuito e anche banalizzata a tratti la stessa celebrazione noi con la scusa o forse potessi pure con la buona intenzione diciamo meglio diciamo con la buona intenzione di voler portare così abbiamo fatto un po' di sconti e quindi come si può dire permettetemi l'espressione in dialetto sparagna e guaragna noi siamo siamo costati sangue no io non direi no duri no dobbiamo essere misericordiosi però ecco ci sono le esigenze dell'alleanza dobbiamo tenere presente le esigenze dell'alleanza però ecco certamente non sono io chiamato a far richiamare all'altro no come abbiamo detto la mia testimonianza deve provocare l'altro quello che io vivo quello che io sono come io partecipo quello deve provocare l'altro non la parola è fatta con la vita è la nostra vita che deve diventare parola perché altrimenti parliamo troppo e allora lo sapete meglio di me vale più un esempio che una relazione poi alla fine se non diventa un esempio ecco non chi dice signore e signore è l'unica del Vangelo di oggi certamente siamo tenuti abbiamo detto a dare ragione alla speranza che è in noi signore se non ci sa non bisogna darlo per scontato questo è il momento però già l'anno scorso abbiamo detto che non si arriva in un momento così allora ma è tutto consapevole che io sono atteso sono chiamato io devo partecipare di questa realtà alla quale il signore mi chiama e quindi questo a questo poi deve corrispondere il mio desiderio tanto no io ricordo una volta è successo sapete nei funerali qualche volta succede che i familiari qualcuno non è confessato allora dice parlando con un familiare a fianco dice vai ma non mi sono confessato e che fa? perché pare brutto che poi tu sei il nipote il figlio non ti fai la comunione e che fa? e io sentii e io lo dissi fa bene non fare la comunione che significa che fa? non è che giustamente piacciamoci un gelatino e non fa niente non bocca di diabete non fa niente stasera potete pigliare la pilloletta non è questo bene domenica ci vediamo tutti a Gerusalemme allora ci vedremo perché è così noi ci vediamo a Gerusalemme non abbiamo consapevolezza e ci manca ancora un passaggio ci manca ancora un passaggio va bene ringraziamo il Signore anche per stasera allora riprenderemo poi dopo le vacanze natalizie l'epifania ti invitiamo anche al presepe vivente che faremo qui che è una rappresentazione così ecco rappresentazione in questo caso così bella così forte così piena di spiritualità perché penso che noi abbiamo bisogno di segni e anche il presepe è un segno molto molto forte la cosa che ci tengo a dire è l'importanza anche della comunione perché una chiesa che vive la comunione va avanti se c'è una chiesa che cammina ognuno per conto proprio anche facendo delle cose buone va bene stiamo facendo delle cose ma non partecipiamo dello stesso Cristo e allora è una cosa molto bella ringraziamo il Signore per questa grazia che ci viene sempre incontro perché non sempre è possibile ascoltare i sacerdoti preparati il 99% sono persone preparate sacerdoti che amano Dio e trasmettono questa cosa e noi dobbiamo accogliere perché abbiamo bisogno anche di e poi una cosa molto bella io di questo ne sono convinto il Vangelo di stasera ecco non chi dice solo Signore e Signore ma noi non abbiamo bisogno soltanto di sapere Sant'Ignazio ma sono convinto di sapore e il sapore è anche fare fare mettersi mettersi in discussione come si dice in gergo adesso sporcarsi le mani non abbiamo bisogno i maestri ci sono ma non abbiamo bisogno di maestri ma di testimoni diceva Paolo VI se non se non l'ho letto prima perciò ve lo dico così bene ci mettiamo in piedi la benedizione però la fai tu facciamo preghiera Mariano facciamo il Magnificat penso che tutti quanti così per ringraziamento sì però la Madonna come per ringraziamento l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono ha spiegato la potenza del suo braccio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore ha rovesciato i potenti dai troni ha innalzato gli umili ha ricolmato di bene gli affamati ha rimandato i ricchi a mani vuote ha soccorso Israele e il suo servo ricordandosi della sua misericordia come aveva promesso ai nostri padri ad Abramo e alla sua discendenza per sé sapete la benedizione è benedire dire bene quindi la consapevolezza che il Signore sempre dice bene di noi non potrebbe fare diversamente se è passato tra gli animali si è stipulato questa alleanza vuol dire che lui continuerà a dire questo bene di noi però la capacità quello che ci vedo onesto alla fine bene di poter dire noi a nostra volta bene anche di noi benediciamoci vicendevolmente è bello generalmente le nonne lo fanno con i nipotini no il Signore ti benedica tipo quando fanno starnuto Cristo sante il Signore ti benedica impariamo a benedirci è bello pensare quando il marito esce di casa che la moglie lo benedice il Signore ti accompagni o viceversa aversi figli così lui ha buongiorno il Signore ti accompagni veramente riscopriamo questa realtà che ci fa del bene e quindi è anche questa la nostra vocazione di poter dire bene l'uno dell'altro così come fa il Signore per ciascuno di noi il Signore sia con voi con il nostro spirito vi benedica Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo benediciamo il Signore benediciamo il Signore ancora buon avvento e anche in previsione poi buon Natale e anche in previsione per la visione di un'unitore di un'unitore di un'unitore di un'unitore di un'unitore di un'unitore